Benvenuti su ClaudioMasci.com Proseguiamo con la creazione del nostro gestionale Nell'ultimo video eravamo arrivati alle impostazioni Quindi avevamo iniziato a creare il form per le impostazioni In questo video ho deciso di separare una parte delle impostazioni e creare un nuovo form Quindi praticamente andremo a togliere costi extra dalle impostazioni E andremo a creare un nuovo form chiamato extra e sconti In questo modo ci andremo ad inserire due colonne Una per gli extra e una per gli sconti In questo modo gestiremo meglio le varie schermate Perché mi sono reso conto che mettere tutto in impostazioni è un po' confusionario Quindi magari gli utenti possono confondersi e non trovare molto chiaro il motivo per cui abbiamo messo gli extra e gli sconti nelle impostazioni Quindi per il momento in impostazioni ci lasceremo nome strutture e tasse di soggiorno Magari si può mettere ad esempio avvia il software all'avvio di Windows Quindi diciamo che possiamo utilizzare le impostazioni proprio come impostazioni del software E non per inserire elementi del database Ho già inserito nelle risorse quindi nel file res una nuova icona chiamata sconti Che troverete sul sito web Quindi se state guardando da youtube come sempre il link articolo E lì troverete il file zip per scaricare questa icona Comunque se volete scaricare delle icone vostre le potete trovare su iconfinder O comunque in generale su diversi siti che vi permettono di scaricare le icone Comunque torniamo sul form 1 Come detto andremo a inserire un nuovo tasto quindi un nuovo form E ho deciso quindi di andare a ridurre le dimensioni degli altri form Degli altri button Più o meno della metà Diciamo che così possono andare 52 per 52 Questo è 62 per 52 Quindi facciamo Allora no 56 per 52 E 62 per 52 Proviamo con 60 e 60 e vediamo se possono andare Direi probabilmente sì Quasi sicuramente dovremmo togliere il testo impostazioni e info Per il momento comunque ce lo lasciamo E copiamo e incolliamo un altro button Ad esempio quello delle prenotazioni E lo chiamiamo btn sconti offerte Nel testo mettiamo sconti e No in realtà no sconti No extra E sconti Quindi stessa cosa btn Extra sconti Quindi qua mettiamo i costi extra e sconti ed offerte A questo punto aggiungiamo sempre al caricamento l'icona Quindi andiamo su carica icone Vai a definizione Che praticamente era sotto Va bene dai E aggiungiamo quindi btn Extra sconti Punto image Uguale res Punto properties Punto resources Punto Ora come l'avevo chiamata Sconti Ok E aggiungiamo anche il content alignment Quindi btn extra sconti Punto Text align Uguale Content alignment Punto Middle Per le icone Middle right No qui è il testo middle right Quindi per le icone No text align middle right Quindi va bene E image align Quindi btn extra sconti Punto image Align Uguale Content alignment Punto middle left Avviamo anche per vedere Che quasi sicuramente dovremo togliere il testo Comunque da impostazioni E da info Infatti si vanno a sovrapporre Queste vanno bene Impostazione info No Andiamo quindi adesso A Rimuovere Intanto commentiamo semplicemente Il text align Per le opzioni Per le info Mentre per quanto riguarda L'immagine Invece di middle left Sia per opzioni Che per info Mettiamo middle center In questo modo Centriamo L'immagine Nella Nel button Andiamo a rimuovere Il testo Perfetto A questo punto Possiamo eseguire Diciamo che può andare bene così Quindi abbiamo l'ingranaggio Per le impostazioni E' un po' grande il button Si può ridurre Ma Al momento Diciamo che non ci serve altro Quindi va benissimo Lasciarlo così Quindi abbiamo le impostazioni Che funzionano ancora Dobbiamo andare A creare il nuovo form Quindi extra sconti E spostare questo blocco Quindi la list view E i tre tasti Tutto sul nuovo form Quindi in impostazioni Lasciamo nome struttura E tasse di soggiorno Andiamo quindi ora A crearci La nuova cartella Extra Sconti In teoria possiamo mettere anche degli spazi Ma preferisco non utilizzarli Perché è molto più semplice Tenere tutto solamente con lettere e numeri Quindi se possibile evitate di usare spazi Soprattutto quando dovete poi richiamare un elemento Perché ovviamente poi extra sconti ci servirà per chiamare il form E per avviare il form Quindi se dobbiamo creare una cartella Semplicemente per inserirci un contenuto Per noi Quindi che poi non dovremo richiamare via codice Possiamo tranquillamente aggiungere anche spazi Altrimenti è sempre meglio non utilizzarli Quindi extra sconti Aggiungi Form Windows form E lo chiamiamo extra sconti Ovviamente a questo punto nel testo Lo spazio ce lo aggiungiamo E lo chiamiamo extra e sconti E andiamo in impostazioni Copiamo in realtà così non sto prendendo la label Control C Andiamo su extra sconti Control V Quindi andiamo ad incollarlo qui Ingrandiamo il form E questa è la parte relativa agli extra Adesso lo duplicheremo e andremo a inserire la parte relativa agli sconti Torniamo su impostazioni E andiamo a rimuovere Questo blocco Che in realtà Prima di rimuoverlo Andiamo a vedere intanto nel load Perché nel load sicuramente abbiamo Questa parte qui Quindi tutta la parte relativa ai tre tasti Quindi le icone Che altrimenti andremo a perdere La andiamo a copiare Andiamo su extra sconti E la incolliamo qui Salviamo Ovviamente tutti gli elementi Ci rimangono con gli stessi nomi Che avevamo anche sull'altro form Questo perché in questo form Non erano presenti elementi con questo nome Ovviamente se io vado a duplicare un elemento Sullo stesso form Mi cambierà nome perché Ne trova già uno con lo stesso Quindi non mi potrà dare lo stesso nome Se invece faccio copia e incolla Da un form all'altro Mi rimarranno con gli stessi nomi associati Quindi ritorniamo su impostazioni Abbiamo rimosso questa parte Quindi non ci sono più problemi Il resto è relativo alle altre impostazioni Quindi possiamo cancellare questi elementi Dal load delle impostazioni E possiamo rimuovere Questo blocco Sicuramente ora avremo un errore dal design Che non me lo dà Avviamo il programma No ok perfetto Ha rimosso correttamente tutti i riferimenti dal design Quindi non mi ha dato errori di elementi non trovati Spostiamo un po' questi due tasti Perché in questo momento Diciamo che il form delle impostazioni Non ci serve che sia così grande Andiamo a ridurlo In realtà possiamo ridurre ancora di più Poi magari se vogliamo andare ad aggiungere In seguito altri elementi Lo faremo Per il momento non ne abbiamo bisogno Quindi va benissimo di queste dimensioni Quindi rimossa la parte relativa agli extra Dalle impostazioni Riverifichiamo Quindi abbiamo con il salva Le impostazioni salvate correttamente Se vogliamo possiamo già far chiudere anche il form Ma diciamo che Magari lo facciamo Sì in realtà chiudiamolo Quindi this.close E aggiungiamo anche su annulla Quindi qui semplicemente andiamo a chiudere il form In questo modo quando non modifichiamo le impostazioni Andiamo automaticamente a chiuderlo Adesso passiamo al form extra e sconti Quindi andiamo effettivamente su quello che ci interessava Anche nel video precedente Abbiamo separato le cose per avere un software un po' più chiaro Possiamo intanto copiare salva e annulla Anche qui Li impostiamo qui Non abbiamo ovviamente gli eventi Perché ci copia solamente La parte relativa alle proprietà del button Ma non gli eventi Questo perché ovviamente l'evento è collegato al form E non al button stesso A questo punto quindi ci andiamo a modificare il form Extra e sconti Spostiamo i button sul limite Andiamo ad allungare un po' il form E lo riduciamo Diciamo più o meno qui Vediamo l'altezza Intanto la list view Non... Forse non gli avevo associato proprio il nome Neanche sull'altro form Mi ricordavo di sì Comunque va bene La chiamiamo LST Costi extra La label Già è nominata E anche i tre button Ok Poi magari andiamo ad aggiustare le colonne Per far occupare più spazio Copiamo tutto il blocco E lo duplichiamo E lo andiamo ad inserire qui sotto Spostiamo i button un po' più giù Magari un po' meno E riduciamo il form Ok Dicevo Come dimensioni Abbiamo 741x242 Ovviamente potete fare un po' d'occhio Per adattarlo al form E poi magari lo adattiamo in modo tale Che quando si modificano le dimensioni del form Si vada ad adattare Abbiamo creato costi extra Diamogli un po' più di spazio Abbassiamo un po' con le frecce Ok E questo la chiamiamo LBL sconti E qui possiamo scrivere Sconti ed offerte Anche in questo caso possiamo lasciare Elemento, prezzo e descrizione La list view la chiamiamo List sconti LST sconti Dobbiamo ovviamente in questo caso Rinominare i button Perché non sono più Nominati Button aggiungi extra Quindi BTN Aggiungi sconto Btn modifica sconto E btn rimuovi sconto Credo che fossero modifica Elimina va bene dai Però manteniamo lo stesso stile Quindi btn elimina sconto Salva impostazioni Annulla impostazioni Li possiamo modificare Con btn salva Extra Sconto E btn annulla Extra sconto Btn annulla Extra Sconto Perfetto Per quanto riguarda il tasto annulla Possiamo Intanto salviamo Per quanto riguarda il tasto annulla Possiamo già mettere un Dis Punto close Quindi chiudiamo il form Senza fare nulla E dobbiamo fare adesso La modifica A questi tre tasti Quindi al momento Non hanno un'icona E Facciamo un copia e incolla Di quelli precedenti Quindi btn aggiungi Sconto Lo copiamo anche Qui Btn modifica sconto E lo copiamo anche qui E btn elimina sconto A questo punto Possiamo andare ad inserire Il Il pannello Quello che ci permetterà Di andare ad inserire I costi extra Gli sconti extra Cliccando su Aggiungi e modifica Potremmo fare Come abbiamo fatto Per le camere Quindi un pannello laterale Che si apre E si chiude Questo è sicuramente Lo faremo per Le prenotazioni Ma Per questa schermata Voglio farvi vedere Una cosa diversa Quindi andiamo su Un'ulteriore Modifica Per poter inserire I campi Quindi Abbiamo visto Nei corsi precedenti L'apertura di un nuovo form Quindi un nuovo form Che poi rimanda Le informazioni a questo Nei video precedenti Abbiamo visto Per le camere L'utilizzo dei pannelli Qui andrò ad utilizzare Una group box In realtà Possiamo utilizzare Anche il pannello Possiamo utilizzare Diversi elementi Però Giusto per variare un po' Per vedere Le diverse Tipologie Di controlli Che possiamo utilizzare Andremo a usare Una group box Quindi andiamo Ad inserire La group box E la inseriamo Più o meno Qui Quindi praticamente Ci va a coprire L'intero Cioè l'intero Metà dello schermo Quindi la parte centrale Del nostro form Nella group box Intanto cambiamo nome E la chiamiamo GRP Aggiungi Elemento In questo caso Mettiamo elemento Perché utilizzeremo La stessa group box Sia per i costi Che per gli sconti Infatti Abbiamo Tre campi Identici Sia per i costi Che per i sconti Quindi Per i costi Abbiamo l'elemento Con il prezzo E lo sconto In realtà Però per lo sconto Possiamo Impostarlo Sia come prezzo Che come percentuale Che in realtà Potremmo fare La stessa cosa Per i costi Quindi Penso che i campi Dovranno essere quattro Abbiamo elemento Prezzo E Un valore Che ci indica Se è una percentuale O se è un prezzo Fisso Quindi ad esempio Potremmo mettere 10 euro Questo costo Oppure il 10% In più Stessa cosa per gli sconti 10 euro 10% Quindi Avremo quattro campi E non tre Comunque Vale la stessa regola Quindi abbiamo Un'unica group box Per il momento Come testo Mettiamo Aggiungi Aggiungi Elemento Che poi Modificheremo Se clicchiamo Su uno o sull'altro Quindi sarà Aggiungi costo extra O aggiungi sconto Nella group box Quindi andremo ad aggiungere Quattro label Quindi andiamo con Label Copia e incolla Copia e incolla E copia e incolla Vediamo che Spostando la group box Si spostano anche le label Perché Andiamo ad inserire tutto All'interno di questo box Quindi abbiamo le label E andiamo ad aggiungere Anche le text box Quindi abbiamo una Due Poi allineamo tutto Selezioniamo le entrambe Perfetto E aggiungiamo Due button Assicuriamoci sempre Di aver selezionato La group box Perché Se selezioniamo Un altro elemento I tasti verranno aggiunti Quindi I componenti verranno aggiunti Al form E non alla group box Selezionandola invece Facendo anche doppio clic Viene aggiunto tutto Nella group box Quindi aggiungiamo Un button E un altro button Andiamo quindi A modificare Le varie label Quindi la prima Sarà Lbl Elemento Textelemento Possiamo un po' Ingrandire questa Questa sarà Lbl Prezzo Prezzo In realtà Quest'altra Non Non sarà Una text box Ma sarà Una check box Quindi intanto Mettiamo Tipologia Scusate Lbl Tipologia Nella text Mettiamo Tipologia Togliamo La text box E mettiamo Due No in realtà Non check box Ma radio Quindi mettiamo Radio button E ne mettiamo Due Possiamo Possiamo Chiamarla Rad Prezzo Poi magari Suggeritemi Qualche Voce Migliore Praticamente Questa sarebbe Quella Del prezzo Fisso Rad Percentuale E la chiamiamo Percentuale Possiamo avvicinarle L'ultima Label È Lbl Descrizione Descrizione La prima non l'ho rinominata Ok Elemento Descrizione Attiviamo Multiline Per dare la possibilità All'utente All'utente Poi di Andare a Scrivere Una descrizione Un po' più lunga Salviamo Per velocizzare un po' il video Ho già modificato I due button Quindi BTN Salvelemento BTN Annullo Elemento Con salva ed annulla Andiamo Rapidamente Ad allineare Gli elementi Sono già Allineati Ok Possiamo Intanto Allineare Sull'altezza Descrizione Facciamo la stessa cosa Con Elemento E textbox In realtà Non mi piace Allineamoli al centro Quindi la label E la textbox Singola Le allineiamo Al centro Anche Tipologia Con i due radio Perfetto Come spazi Diciamo che ci potremmo Anche essere Alzo un po' Il prezzo Diciamo che Può andare così Volendo possiamo Un po' Spostare Sulla sinistra Ma per il momento Lasciamo così Poi ovviamente Potete personalizzarlo Graficamente Come preferite Ora Quello che dovremmo fare È creare Due metodi Che ci permettono Di mostrare E nascondere La groupbox Una cosa importante Che andremo a fare È Che quando Mostriamo La groupbox Tutti gli altri Elementi Sotto Saranno Disattivati Cioè saranno Visibili Ma disattivati Quando invece La chiudiamo La groupbox Sarà nascosta E tutti gli altri elementi Saranno di nuovo Attivi Andiamo quindi A vedere Come farlo Abbiamo già Il codice Del form Aperto Quindi Extra sconti Se non dovessimo Averlo Facciamo doppio click Sul load Sul form E Ci andiamo a creare Un nuovo metodo Quindi Private Void Mostra Groupbox In realtà Non Non ci serve Un nome particolare Qui andiamo Prima di tutto A mostrare La groupbox Quindi Mostra Groupbox E andiamo A inserire Un altro commento Nascondi Altri Elementi Anzi No Non nascondi Ma Possiamo Chiamare Blocca Altri elementi Iniziamo quindi Dalla groupbox GRP Aggiunge elemento Punto Visible Uguale True Quindi rendiamo visibile La nostra groupbox Cosa importante Quindi Nell'OAD In realtà Non servirebbe Perché l'andiamo A nascondere noi Ma in realtà Possiamo tenerla Anche visibile Nel codice Possiamo Andare a inserire Nell'OAD Group Aggiunge elemento Punto Visible Uguale False Quindi al caricamento Del form La groupbox Ovviamente Non sarà Visibile Sarà visibile Solo quando andiamo A mostrarla Noi Cliccando sui tasti Quindi Mostra groupbox A posto Abbiamo reso visibile La groupbox Andiamo a bloccare Tutti gli altri elementi Gli altri elementi Sono Le due liste I Sei button E i due button In basso Potremo bloccare Anche le label Ma non Non ne abbiamo bisogno Quindi Facciamolo intanto Con i button Quindi abbiamo Button Aggiungi Btn Aggiungi Extra Punto Enable Uguale False Btn Facciamo prima tutti Gli extra Modifica Extra Punto Enable Uguale False Btn Rimuovi No Elimina Extra Punto Enable Uguale False List Costi Extra Punto Enable Uguale False Passiamo adesso Agli sconti Quindi Btn Aggiungi Sconto Punto Enable Uguale False Btn Modifica Perché modifica Extra Modifica Sconto Punto Enable Uguale False Btn Elimina Sconto Punto Enable Uguale False List Sconti Punto Enable Uguale False E adesso I due button Per salvare Btn Salva Salva Extra Sconto Punto Enable Uguale False E L'ultimo Andiamo a vedere Da qui Si chiama Btn Annulla Extra Sconto Quindi Btn Annulla Extra Sconto Punto Enable Uguale False Salviamo E in questo modo Quindi abbiamo Creato il nostro Metodo Per Mostrare La group box E per bloccare Tutto il resto Quindi Quando la group box Viene mostrata L'utente non potrà Cliccare sugli elementi Presenti Sullo sfondo Abbiamo lasciato attive Le label Perché effettivamente Ci cambia poco Che l'utente possa Cliccare sulle label Oppure no Facciamo adesso L'opzione Opposta Quindi Private void Nascondi Group box Group Group box Perfetto Facciamo al momento Copia e incolla Dell'intero codice Cambiamo Ovviamente i commenti In Nascondi Group box E Sblocca Altri elementi Quindi Questo diventa False Tutti gli altri Diventano True Alcune volte Non me lo seleziona Perfetto Quindi abbiamo Adesso Creato Le due Funzioni Che ci permetteranno Di mostrare E nascondere La group box Ora Andiamo a far Caricare Il nostro form Dal form 1 Quindi quando l'utente Cliccherà su extra sconti Andiamo ad inserire Extra Sconti Punto Extra Sconti Form Extra Sconti Uguale New Form Extra Sconti Punto Show Questo è il motivo Per cui ho detto Di Non mettere Gli spazi Nella cartella Extra Sconti Perché altrimenti Qui ci sarebbe stato Uno spazio E avremmo avuto Un errore Quindi non avremmo potuto Utilizzare Questa Sintassi Salviamo E per il momento Con il form 1 Non dovremmo avere Altre modifiche Per il momento Possiamo chiuderlo Andiamo su extra sconti E andiamo sul button Annulla E qui ci andiamo ad aggiungere Nascondi group box Nascondi Non so per quale motivo Ogni tanto parte il codice Ok Nascondi group box Salviamo E aggiungiamo un mostra Group box Per il momento Al button Aggiungi extra Quindi mostra Group box Poi andremo ad aggiungere Meglio le funzionalità utili Per capire Quando stiamo Passando Le informazioni Agli extra Quando le stiamo passando Agli sconti Eccetera Per il momento Comunque Limitiamoci Semplicemente All'interfaccia Quindi avviamo Il nostro programma E vediamo Che cosa Succede Intanto Quando avviamo Il form Questo è il form Che otteniamo Quindi Tranquillamente Senza La group box Quando clicchiamo Sul più Viene bloccato Tutto quello Che c'è sotto E abbiamo La group box Visibile Annullando Si riattivano I tasti Presenti in basso In questo modo Possiamo Andare poi A inserire Le varie informazioni Nella group box Salvarle E visualizzarle Cliccando su annulla Rivediamo Il contenuto Del nostro form Come ho già detto Già diverse volte Nei video precedenti La scelta Di un elemento Piuttosto che un altro Va fatta In base All'interfaccia grafica Del form O comunque Del programma In generale E Sarebbe sempre meglio Studiarlo In anticipo Quindi Non andare ad improvvisare Come stiamo facendo In questo video Ma generalmente Nei tutorial Improvviso Abbastanza Per vedere Più elementi Possibile Comunque Quando si Progetta un software Professionale Da vendere È sempre meglio Non improvvisare Ma preparare Già prima Una bozza Sia dell'interfaccia Grafica Sia Stilare una lista Delle varie funzionalità Chiave Che deve avere Questo software Quindi non Andarle poi A creare sul momento Ma avere già Chiaramente Quello che deve essere E Come detto Possiamo utilizzare Diversi metodi Per l'inserimento Dei dati O comunque In generale Per le varie funzionalità Abbiamo visto L'utilizzo Di un form a parte Di un pannello In questo caso Della group box E Come detto Valutate In base A quello che è Il form Personalmente Non mi piace molto L'utilizzo di altri form Quindi avremmo potuto Con il più Andare ad aprire Un nuovo form Una nuova finestra A parte E poi inviare Tutti i dati A questa finestra In questo modo Inviamo informazioni Tra due finestre Quindi apriamo Ulteriori Processi Cioè in realtà Stiamo sempre Sello stesso processo Ma comunque Andiamo ad aprire Un nuovo form Con delle nuove variabili Con dei nuovi dati E personalmente Ritengo che va A pesantire Il software Quindi Quando possibile Cerco di mantenere Tutto All'interno Di un unico form Quindi in genere Almeno Per un gusto Personale Per una scelta Personale Preferisco L'utilizzo Dei pannelli O delle group box Piuttosto che Di altri form La scelta La scelta Tra un pannello E una group box Può variare In base All'aspetto Del form Teoricamente Avremmo potuto Utilizzare un pannello Anche qui Perché non ci sarebbero Stati problemi Nello spostare Questi elementi L'unica Accortezza Che avremmo dovuto avere È Quella di non Spostare Tutto il blocco Quindi di non Spostare Tutto sulla sinistra Perché altrimenti Perderemo i tasti Ma di ridurre Le dimensioni Della list view Quindi Avremmo potuto Tranquillamente Utilizzare un pannello Anche in questa schermata Come abbiamo fatto Per le camere Per quanto riguarda Le camere Sicuramente L'utilizzo Di un pannello Potrebbe essere La scelta migliore Rispetto alla group box Perché Non Andiamo a rimetterci Nell'aspetto Nell'interfaccia Del nostro programma Perché Possiamo tranquillamente Scorrere La data grid view Abbiamo tutti i tasti visibili Quindi non perdiamo nulla Con il pannello Personalmente Invece In questa schermata Un pannello Che sposta La grafica Lo vedo male Quindi In questo caso Credo che Un utilizzo Di questo tipo Sia migliore Rispetto al pannello Generalmente Vi consiglio Quando Sviluppate un software Di mantenere Lo stesso stile Per le varie schermate Quindi Se si utilizza Un pannello Da una parte E' meglio Utilizzarlo Anche per tutto Il software Ma Ci sono dei casi In cui Questo non è possibile Perché Risulterebbe O brutto Graficamente O comunque Poco funzionale Come ad esempio In questo caso Il pannello Secondo me Sarebbe Meno funzionale Rispetto a questo Utilizzo qui Quindi In alcuni casi Si può Utilizzare Uno stile Diverso A patto Che questo Abbia Senso Di esistere Quindi Lo possiamo utilizzare Se effettivamente Questo stile Va a migliorare Quella determinata Schermata Se abbiamo due schermate Molto simili Tra loro Due forme Molto simili Tra loro E utilizziamo Due metodi Diversi Quindi Un pannello Una group box Questo va A disorientare L'utente E sicuramente È una scelta Sbagliata Ma con due form Con stili diversi Possiamo adottare Due scelte diverse Ultima cosa Prima di concludere Ovviamente Avremmo potuto Anche Invece di Impostare La proprietà Enable Impostare La proprietà Visible Quindi rendere Invisibili Gli elementi Sottostanti Ma Credo che Per una scelta Grafica Comunque L'utente Possa voler Vedere Comunque L'interfaccia Sottostante Quindi non andiamo A nascondergliela Completamente Gliela Semplicemente Gliela andiamo A bloccare Quindi non la può Utilizzare Ma la vedrà Comunque Sotto Alla Alla Group box Quindi al pannello Che sta vedendo In primo piano Questo probabilmente Anzi Sicuramente È l'ultimo Video Solamente Sull'interfaccia Grafica Per la schermata Extra Sconti Nel prossimo video Andremo Inizieremo Quindi a Collegarci a database Andremo ad inserire I costi extra Gli sconti E le offerte Andremo ad aggiungere Anche l'ulteriore Colonna Se volete Potete già aggiungerla Tanto abbiamo già visto Che è una colonna Tipologia Che mostrerà Semplicemente Se è il prezzo O se è una percentuale Possiamo farlo Ad esempio Mostrando il simbolo Dell'euro O il simbolo Della percentuale Questo poi lo vedremo Comunque La colonna sarà Di tipo Testuale Quindi avrà una stringa Mentre nel database Molto probabilmente Utilizzeremo Un numero intero Quindi ad esempio Zero Indicherà prezzo Uno percentuale Questo magari Lo vedremo nel prossimo video Come sempre Scrivetemi Nei commenti Le vostre opinioni Dubbi Domande Suggerimenti Quindi se pensate Che ci sia qualcosa Da modificare Se volete vedere qualcosa In particolare Nel prossimo video Vi ringrazio Per aver seguito Questo video E ci vediamo al prossimo E ci vediamo al prossimo